Questo è il Panigale 1199, la nuova generazione di Ducati Superbikes. È caratterizzato da un design integrato su frame e engine, e questo significa che l'engine in itself è un membro stressato del chassis. Il nuovo engine Superquadro, caratterizzato da un ratio extremi bore-to-stroke, ha 195 hp, quindi significa 25 hp più di suo precedente, 1198. Il peso overall della moto è 177 kg, quindi questo peso molto alto dà alla moto superbe caratteristiche di gestione e di gestione. Inoltre, il motocicletto funziona molti controlli elettronici, e gli controlli elettronici cambiano automaticamente per cambiare i modi di ride. Ma se vuoi, puoi personalizzare qualsiasi controlli elettronici nel vostro modo di ride. Controlli elettronici sono, per esempio, controlli di traccia, controlli di rinforzamento, 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 e così via. Finalmente, per rinforzare la sicurezza, il motocicletto può adottare un sistema ABS specificamente designato per usare sport, anche sulla racetrack. ... Grazie.